Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto in via Regina Margherita nel pieno centro, qui alle mie spalle in piazza Garibaldi e vogliamo mostrarvi una scelta da parte dell'amministrazione comunale dell'ufficio traffico che a mio avviso è davvero un obbrobrio. Ci è stata segnalata da numerosi cittadini, da numerose attività commerciali insistenti sulla zona, penso che le parole siano meno eloquenti di ogni immagine che state vedendo. Qui si è deciso di creare una fila, una striscia dedicata ai parcheggi per realizzare accanto la pista ciclabile. Benvengano le piste ciclabili per carità, do atto all'amministrazione che è un momento di civiltà realizzare le piste ciclabili, ma le piste ciclabili devono essere realizzate laddove è possibile realizzarle e non metterle così tanto per metterle. Perché vedete l'ingorgo e la pericolosità di questo parcheggio. Pericolosità perché immaginate un po' la macchina, l'automobile mentre sta parcheggiando, magari in retromarcia, praticamente va ad invadere il manto stradale, l'assetto lungo il quale scorrono le altre macchine. Oltre al fatto che si restringe terribilmente la carreggiata. E immaginate nei momenti di traffico, traffico intenso, cosa succede. Ora c'è il discorso del Covid e quindi il coprifuoco e il problema non si pone. Ma immaginate quei sabato sera, quando davvero la piazza brulica, quando davvero già normalmente si creavano ingorghi terribili, o anche nelle ore calde della mattinata, le 12, 12.30, le 13.00, immaginate appunto cosa si crea. E qui la carreggiata si restringe terribilmente, per cui a stento riescono a passare due macchine, ma in condizioni di assoluta normalità. Immaginate nel caos. È una scelta, ripeto, che secondo me, lo devo dire apertamente, non ha né capo né coda. Vedete anche quando passano, per esempio, gli autobus. Vedete, e qui praticamente passa un solo autobus, non ce la fa una seconda macchina a passare e si crea un ingorgo. Pensate un po' quando ci sono le ambulanze, altro problema. Ecco, vedete, ma questa striscia, io quando l'ho vista la prima volta, pensavo che fossero delle automobili parcheggiate in doppia fila. E invece, guardate cosa c'è, tutto lungo la strada, queste macchine, questi automobili che sembrano così lasciate al centro della carreggiata, invece no, è un parcheggio che l'amministrazione ha ritenuto opportuno realizzare. Qui addirittura c'è anche il posto per la farmacia. Pensate un po' il parcheggio per chi utilizza la farmacia. Allora, ricapitolando, io sono favorevole alle piste ciclabili. Tutte le città italiane ed europee evolute hanno la pista ciclabile. Ma la pista ciclabile non è che deve essere come il formaggio che si butta sulla pasta così a caso, diciamo. Deve avere una sua logica, una logica contestualizzata con il resto dell'assetto urbano. E qui, sinceramente, guardate un po' come è possibile una cosa del genere. Ripeto, ben vengano le piste ciclabili, ma devono essere messe con criterio. Guardate qui, sta passando un altro bus. Guardate, un solo mezzo riesce a transitare. Neanche una macchina insieme ad un bus. E quindi che dovrebbe essere un'arteria di scorrimento, un'arteria che dovrebbe snellire il traffico, non appunto affogarlo. Invece con questo sistema si crea davvero l'ingorgo. È un modo quasi paradossale per creare ancora più traffico, un traffico ancora più congestionato. Allora, mi rivolgo al sindaco, mi rivolgo all'assessore alla polizia municipale, mi rivolgo al comandante della polizia municipale, all'ufficio traffico. Avete fatto questa scelta. La scelta purtroppo si è rivelata sbagliata. Noi non vogliamo condannare, perché si può sbagliare. Sapete quanti errori faccio io e quanti errori fa ciascuno di noi. Però, come dice un proverbio, errare è umano, perseverare è diabolico. E in questo modo, in questo modo, purtroppo si precipitano le cose. Allora, fate così. Dite, abbiamo sperimentato, abbiamo provato, abbiamo visto che la cosa non è possibile, ritorniamo sui nostri passi. Non c'è niente di male, anzi, sarebbe un gesto di intelligenza e di maturità. Per cui, ripeto, io ho raccolto la rabbia e lo stupore di centinaia di cittadini. A questo punto, come dire, riflettendo, direbbero i latini, melius re perpensa, avendo riflettuto meglio, si deve appunto tornare sui propri passi. Nell'interesse esclusivo della città, perché con il traffico, qui in via Regina Margherita, sarà all'inferno.